ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video recensione di app video review oggi voglio andarvi a presentare delle cuffie in air della mostra cuffie appena arrivate come potete notare sono ancora incelofanate tranquillamente quindi non le ho assolutamente aperte questa è la confezione quindi il fronte della confezione piccole scritte chiaramente sulla destra e chiaramente un po di specifiche sulla parte posteriore tutte rigorosamente in inglese nel nostro caso andiamo adesso ad aprire insieme la confezione e vediamo insieme perché io nemmeno l'ho ancora aperta come potete notare quindi non so come si presenta la confezione al suo interno sono curioso come voi di vedere allora quindi la confezione facilmente apribile come potete notare è semplicemente ad estrazione e adesso andiamo a vedere come aprire le nostre cuffie tipo libretto magnetico come potete notare non so se sentite ecco è a scatto quindi è una confezione anche richiudibile senso tranquillamente se volessimo metterle via comunque mantenere per chissà per quale motivo la scatola ecco qui che è magnetica questa è la confezione veramente veramente ben fatta gomma no plastica che sembra vellutata o comunque simil vellutata sulla destra e è una piccola scritta sulla sulla parte sinistra in cui dice che la vita è troppo piccola troppo breve per ascoltare diciamo la musica con delle cuffie che non siano all'altezza ma a noi ci interessano chiaramente le cuffie non so se se riuscite a vederle eccole qui qui abbiamo come potete andare le cuffie e qui il sacchettino che le andrà a contenere quando le le porteremo con noi quindi classico sacchettino a contenitore come porta spicci chiaramente tutta brandizzata adesso andiamo a sollevare un'altra parte ecco qui queste sono chiaramente le nostre cuffie che adesso noi andremo a rimuovere insieme per vedere anche manca ad ascoltare velocemente la musica con il nostro iphone ecco qui queste sono le le cuffie come potete vedere gomma gomma morbida e quindi senza nessun tipo di di problema ecco qui il classico chiaramente jack da poter inserire abbiamo chiaramente poi una le classiche quick start che mettono sempre all'interno di questi di questi prodotti in cui dicono come inserire il microfono l'auricolare all'interno delle orecchie come trovare qual è il destro e il sinistro insomma cose che conosciamo abbiamo devo dire per fortuna molti diciamo molti gommini da poter sostituire sulle nostre cuffie anche per le misure delle orecchie sappiamo che comunque non sono per tutti uguale quindi comunque è un bene e la classica grappettina da poter per poter bloccare il nostro filo dell'auricolare alla giacca la carnicia la maglietta o a quello che sia uno zanetto quello che insomma chiaramente un po di di pubblicità al loro interno andiamo per adesso a a vedere il funzionamento vediamo un attimino come 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 si sentono quindi prendiamo il nostro iphone chiaramente inseriamo il il jack e a questo punto io direi prendiamo le volte chiaramente ecco qui io non so se voi riuscite a sentire ma vi posso assicurare che che anche al massimo comunque un'ottima musica da ascoltare senza particolare distorsione un pochetto sì ma comunque la musica era già alta di per sé e alzata al massimo sicuramente non non agevola l'ascolto queste sono le cuffie che io vi volevo presentare devo dire che la confezione è molto 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 carina mi è piaciuta a me molto questa cosa di poterlo comunque richiudere con una facetta magnetica quindi comunque molto interessante anche comunque tutto il resto quindi parliamo di parecchi gommini che spesso sono quelli che mancano maggiormente quando compriamo questo tipo di accessori invece qui ce ne sono parecchie di varie di varie misure che dire come potete vedere comunque una confezione fatta fatta bene io adesso la sto ricomponendo insieme a voi quindi come vedete è anche semplice da poter ecco volevo semplicemente vedere ecco quasi infatti come viene indicato sulla left ecco qua ci viene anche indicato chiaramente qual è la cuffia destra e qual è la cuffia sinistra per un migliore ascolto e poi il classico sacchettino che comunque non non basta mai perché spesso anziché sacchettino altro tipo non abbiamo mai dove poter mettere le cuffie anche se un sacchettino può creare dei problemi sì perché comunque sappiamo che andrebbero ad inserire dentro direttamente e potrebbero far impicciare il i nostri cavi che dire queste sono le auricolari che io vi volevo presentare questa è la loro confezione originale poi le preverò eventualmente se lo altri metterò dei commenti a fine del nostro articolo quindi io vi saluto vi ringrazio di averci seguito ancora una volta mi raccomando seguite sempre il nostro blog su www app video review punto net iscrivetevi sempre se non l'avete già fatto al nostro canale youtube e seguiteci sia su facebook che su twitter ciao ragazzi e alla prossima